Musica Ciao, come sempre scusatevi per le luci ma per questi video così veloci dove presente non faccio vedere niente uso la fotocamera quella che uso normalmente ed è in giro Allora, primo album del libro Shea del 2016, primo album con tutte le offerte per San Valentino questo album è valido fino al 2 febbraio del 2016 e dico, andiamo oltre ed iniziamo subito a sfogliarlo Eccoci qui, allora iniziamo a guardare l'album numero 1 che è valido fino al 2 febbraio del 2016 vediamo subito dalla copertina che ci sono tantissime offerte per San Valentino direi di procedere ecco, vediamo subito che in regalo abbiamo il Vanity, questo bellissimo Vanity, eccolo qui con, acquistando due trattamenti antità tra quelli che vediamo, quindi tra questi, tranquillamente qualunque questi, la Sarum Vegetal eccoli, ne basta acquistare due e si ha il Vanity in omaggio elixir 7.9, eccolo, la Antige Global la linea Rich Creme trattamenti 4.16 quindi fino alla linea qua, zero difetti ora vi mostro anche questa che è una novità del packaging perché il prodotto è sempre quello della linea anti-età questa, Lifting Bio, perché è completamente biologica hanno rifatto solamente il packaging perché così è in vetro, quindi è più ecocompatibile e abbiamo quella linea notte e la linea giorno e notte ecco, ora ci sono il set il primo set che troviamo, il set di San Valentino a 7.95 abbiamo due gel detergente e questi di freschezza quindi wow, come offerta, tutto per San Valentino c'è anche a 9.95 il gel detergente e purificante ed a 9.95 due latte detergente e quelli di Teev e questi davvero li trovo molto validi abbiamo anche la linea Pure System 9.95, due gel detergente e purificanti poi abbiamo l'altra promozione eccola qui perché abbiamo la linea di San Valentino con 12.95, la BB Cream che potete scegliere il colore ovviamente tra questa che è la media oppure la dark o la light ed è l'acqua stoccante, viso e occhi della linea Pure 2 altro set, abbiamo a 7 euro e per il trattamento del viso il gommage gloso alla bicocca più la maschera effetto ghiaccio cioè in quelle mirtilli altro set, eccolo qui sempre per San Valentino abbiamo 17.95 quindi in questo caso è davvero una grande offerta il mascara volume vertige nero più la stilo occhi questa qui che sono quelle waterproof sono fantastiche si può scegliere ovviamente tra quella verde quella, eccola, quella nera aiuto, senti piccolo e se no abbiamo quella turchese o quella viola è più facile vedere dai decolori piuttosto che leggere altri, e quelli qua perché abbiamo anche ovviamente quel non detto e quella nera poi abbiamo quella blue flash l'antracite e quella oro eccoci qui con gli altri set e qui abbiamo a 9.95 il set che comprende il latte nutriente intenso perché l'acqua è molto secca che è perfetto in inverno e il gommage vegetale andiamo avanti e vediamo anche la cura del corpo per rimetterci in forma quindi a 24.95 la linea clé vegetale minceur e abbiamo il sfogliante più il siero riducente globale vedendo il prezzo del singolo prodotto qui sotto direi che è davvero una wow super offerta eccoci ora ai set quelli della linea Leplasia Nature perché abbiamo a 9.95 il set che comprende vi faccio vedere uno eccolo qui questo è quello della vaniglia bio e comprende il gel dolce sfogliante e il latte verutato corpo a solo 9.95 abbiamo anche quella la mora abbiamo anche quella la noce di cocco ovviamente la mora è quella ancora qua e possiamo completare questo set con il cestino eccolo qui in iuta con questo poffino rosa che è anche molto carino ed è a solo 2.95 quindi si fa anche un bel regalo oppure a 14.95 abbiamo il set della vaniglia bio con comprensivo di tutto quindi ha il gel dolce il latte corpo il mini profumo e il cestino già compresi veniamo ora ai trattamenti per i capelli perché anche questa è una grande promozione perché abbiamo a 5 euro due shampoo trattamento un utile riparatore considerando che sono 300 ml e uno è davvero una grande promozione sempre per i capelli abbiamo anche il balsamo in questo caso due balsamo un utile riparatore eccolo qua e sempre 5 euro l'uno 5 euro il set da due veniamo ora al set bio perché abbiamo a 9.95 la crema doccia nutriente al burro di carité bio questa e il latte nutriente intenso con la pelle molto secca che avevamo visto prima veniamo ora al set completamente bio perché abbiamo 9.95 il latte nutriente corpo e la crema mani nutrite che è tutto completamente biologico finiamo con i set eccoli qui con quelli più golosi perché abbiamo a 4.95 il gel doccia rinfrescante al limone verde e il diodorante freschezza al tè verde oppure sempre a 4.95 il gel doccia energizzante alla melograna e il diodorante freschezza sempre alla melograna concludiamo con il bastamo labbra in offerta ha due baste di labbra a 3 euro di cui il primo ed è con il codice ovviamente solito e l'altro con il codice rosso per l'avere di tutti e due a 3 euro come sempre eccoci dunque abbiamo studiato tutto avete visto tutte le informazioni tutte le offerte vi ricordo che qui nell'info box c'è il link per contattarmi per le informazioni per gli ordini e c'è sempre anche il link per scaricare il catalogo di formato pdf sul vostro computer così potete tranquillamente sfogliarlo con calma io sono sempre qui per tutto quanto ed è non mi resta che augurarvi buon sabarettino e buoni acquisti naturalmente profumati con il magico naturale mondo vivro sci 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 sci